Della sussidiarietà esistono tre versioni, la sussidiarietà in senso verticale, che vuol dire il decentramento politico-amministrativo, lo Stato decentralizza le regioni, le regioni ai comuni e così via, e va bene, la sussidiarietà orizzontale e la sussidiarietà circolare. Tutti parlano di sussidiarietà in senso orizzontale, non ancora di quella circolare, eppure la vera sussidiarietà è quella circolare, come Bonaventura da Bagnoresio già scrissi in un saggio del 1274, ma come dire, la gente non legge, non studia e quindi non ha memoria storica. Dov'è la differenza? Che la sussidiarietà orizzontale è una sussidiarietà negativa, si dice in gergo, cioè dire lo slogan è non faccia allo Stato quello che possono fare meglio i corpi intermedi della società e va bene di per sé, però non basta. La sussidiarietà circolare dice invece faccia allo Stato, assieme ai corpi intermedi della società, determinate cose per raggiungere obiettivi di benessere collettivo. In altre parole, con la sussidiarietà circolare si compie un passo avanti, nel senso cioè che si tratta di condividere quote di sovranità e non soltanto di cedere da parte dell'ente pubblico quote di sovranità agli enti intermedi. Ora, questo problema sta arrivando all'attenzione di tutti perché di fronte a questioni che vanno dal welfare all'ambiente, se non si trova il modo di lasciare interagire fra di loro lo Stato, il mercato e la società civile organizzata, in condizioni però paritetiche, non si arriverà alla soluzione. Anche su questo fronte sono fiducioso perché vedo che in Italia quelle realtà locali, a livello quasi comunale, che hanno in questi ultimi anni adottato questo modo di interpretare la sussidiarietà, i risultati sono notevolissimi. Spero che, come si dice in gergo, il buon esempio Trascini.